Il Comune di Aquiterme aveva già in cantiere da tempo la riqualificazione del complesso polisportivo del Monbarone e nei mesi scorsi aveva approvato il progetto esecutivo definitivo con un programma di lavori che prevedeva interventi sul palazzetto, piscina, spogliatoi, con l'abbattimento delle barriere architettoniche, la modifica dei percorsi di accesso, l'incremento dei bagni per il pubblico, la sostituzione di serramenti e rifacimento di coperture in piante elettrici di riscaldamento e antincendio. Il progetto del costo di 1.200.000 euro prevedeva l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal bando sport e periferie, oltre a contributi comunali, ma quando è stato elaborato il progetto non aveva tenuto conto della promozione della formazione palavolistica della Bolente in serie A3. Il palazzetto del Monbarone non è idoneo alle regole imposte per la disputa delle partite della massima serie, tanto che la società, guidata da Stefano Negrini, per la prossima stagione sportiva sarà ospitata in quel di Valenza, creando peraltro un feeling fra la città dell'uovo e la città termale che porterà benefici a livello economico e turistico a tutto il territorio. A questo punto però da Palazzo Levi c'è la volontà concreta di fornire per la stagione 2024-2025 un campo regolamentare ad una realtà che porterà il nome di Aquiterme in tutta Italia. Dopo aver elaborato alcune ipotesi, una delle quali prevedeva di soprelevare l'attuale palazzetto di 60 cm, il Comune opterebbe per costruirne uno nuovo. Secondo noi, ha spiegato il Sindaco Danilo Rapetti, di fronte ad una differenza di spesa di 700-800 mila euro, è più conveniente costruire un nuovo palazzetto con un costo di 2 milioni e mezzo di euro che verrebbero recuperati con contributi regionali, da sponsor privati e con l'aiuto del credito sportivo. La nuova struttura sorgerebbe accanto al palasporto attuale, al posto della piscina scoperta. L'ufficio tecnico del Comune sta valutando l'ipotesi. Se approvata, i lavori dovranno iniziare in fretta per essere pronti all'appuntamento del 2024.